masha supereroe oh amichetti miei voi siete i miei cucciolini adorati i miei animaletti preferiti e voglio giocare sempre con voi voi siete i miei animaletti del cuore e io vi proteggerò sempre miei cucciolini adorati venite con me andiamo a fare una bella passeggiata tutti insieme oh che bello masha sono troppo contenta e dove ci porterai masha vi porterò al parco amici miei lì ci sono tanti giochi e potremo divertirci evviva evviva il parco che bello parco 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 ora statemi vicini che dobbiamo attraversare la strada e i piccoli miei non andate così forti aspettatemi e c'è una macchina fate attenzione masha masha aiutaci salvaci tu abbiamo paura aspettate amici ci sono io a proteggervi via brutta macchina lascia stare i miei amici cuccioli miei come state vi siete spaventati oh sì masha meno male che ci hai salvati tu sei la nostra super eroina abbiamo avuto tanta paura quando abbiamo visto arrivare quella macchina amici non dovete avere nessuna paura ci sono sempre io a proteggervi la vostra masha già perché io sono masha la super eroina e difendo i miei amici da tutti i pericoli fare questo gioco mi piace tantissimo però per essere una vera super eroina dovrei avere anche un super costume proprio come un vero super eroe ma masha la super eroina non si arrende costruirà un bel costume per essere un vero super eroe ora amici mi metto subito all'opera in men che non si dica vedrete la mia trasformazione ed eccomi qua è arrivata masha masha super eroe la paladina della giustizia il mio compito è quello di sconfiggere i cattivi e di proteggere i più deboli e ora grazie al mio mantello volerò alla ricerca di persone che hanno bisogno del mio aiuto forza masha super mascia in azione a Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ehi, ma dove si sta dirigendo Orso? Quello è un alveare. Non deve avvicinarsi troppo. Può essere molto pericoloso. Le api potrebbero uscire da un momento all'altro. Orso! Orso! Orso, scappa! Scappa! È uno sciame d'api! Forza! Ti porto io in salvo, Orso! Vieni con me! Forza, Orso! Ora ti porto in salvo! Oh! Ecco, Orso! Ora sei in salvo! Ci siamo allontanati dalle api, finalmente! Lo so, lo so, Orso! Sei in debito con me! Certo! Ora sei pieno di punture d'api! Guarda quanti punti rossi che hai! Ma non ti preoccupare! Ci penserà sempre Super Masha a curarti! Da oggi c'è Masha! Masha Super Eroe! Che proteggerà tutti da qualsiasi pericolo! Orso, questa volta sei stato molto fortunato! Ti ho trovato giusto in tempo, prima che potesse succedere qualcosa di irreparabile! Ma per fortuna, Masha Super Eroe è sempre al posto giusto, al momento giusto! È già! Alla prossima avventura!